Ovviamente gli strumenti di cui disponiamo, cioè il codice antimafia, in una situazione contingente come quella del PNNR, ma in ogni caso anche dell'evolversi di certi fenomeni che si stanno allargando e che potrebbero mettere a rischio l'economia legale, insieme al sindaco abbiamo ritenuto opportuno adottare questo protocollo che allarga la maglia dei controlli sia nel settore dell'edilizia che nel settore delle forniture e dei servizi. L'idea che ci ha mossa è quella di dire alle aziende trasparenti, corrette, quelle che fanno girare l'economia sana, che distribuiscono posti di lavoro e stipendi, negli appalti del Comune di Prato c'è massima attenzione per favorire chi è più bravo, non chi trama nell'ombra o si appoggia a strutture delinquenziali.